Il giudice per l'udienza preliminare Rosario Di Gioia ha rinviato a giudizio per concorso in omicidio Gabbele Citarella, Francesco Troia e Piero Cavello. I primi due facevano parte del servizio di vigilanza della discoteca Goa dove ha trovato la morte il giovane medico di San Cataldo Aldonaro. Il terzo era un buttafuori abusivo e dunque sono tre i nuovi imputati che dovranno difendersi in corte d'assise dall'accusa di aver ucciso Aldonaro. Il giovane neolaureato in medicina fu colpito a morte in una rissa nella notte tra il 13 e 14 febbraio 2015 alla discoteca Goa di Palermo. I familiari hanno sempre sostenuto che non fu soltanto Balsamo già condannato ad uccidere il figlio ma fu invece un gruppo di persone. E dunque così regge la tesi delle parti civili gli avvocati Salvatori e Antonio Falzone che assistono la famiglia Naro. E dunque i legali hanno sempre sostenuto l'ipotesi che si sia trattato di un brutale pestaggio.